La fede e la devozione verso il santo confessore Cappuccino si rinnovano mercoledì a Padova nel santuario dedicato a padre Leopoldo Mandic. Proprio qui, alla vigilia dei bombardamenti sulla città, il frate confessore morì il 30 luglio del 1942 in una cella che sarà risparmiata poi dalle distruzioni della seconda guerra mondiale sulla città. Il 29 luglio del 21 la celebrazione presieduta dal rettore del santuario padre Flaviano Gusella l'occasione per ringraziare il signore per il frate visto che lo scorso 12 maggio, festa di San Leopoldo, non era stato possibile celebrare con solennità a causa delle restrizioni del lockdown. Un momento che arrivi in un anno speciale per padre Leopoldo e per quanti a lui si affidano. Proprio inizio 2020 il frate Cappuccino è stato riconosciuto patrono dei malati di tumore.